Abbiamo studiato entrambi pittura e quindi abbiamo un approccio sicuramente artistico per qualunque cosa che facciamo e abbiamo notato anche prima ancora di lavorare insieme che abbiamo un gusto molto complementare e siamo stimolanti uno per l'altro. Dopo lo studio all'accademia abbiamo diviso un po' le nostre strade mentre lei faceva disegnatrice tessile io insegnavo, mi dedicavo alla musica, dipingevo all'inizio e poi diciamo la differenza nostra che ci aiuta è che sicuramente lei è molto brava ad organizzare le cose mentre io vengo da un background molto artistico però tecnicamente ero molto adatto a riparare, correggere e trovare soluzioni soprattutto tecniche. Diciamo che noi due veniamo da due background diversi in quanto io sono serba e lui tedesco ma diciamo che secondo me noi portiamo dentro tutte e due delle caratteristiche tipo parlando di me, della mia terra che sono questo grande orgoglio e questa tenacia, questa inventiva e questo cercare sempre in maniera creativa senza arrendersi mai di trovare una soluzione e superare degli impasse. Venendo in Italia, ovviamente l'Italia per me era bellezza, tanta tradizione e storia quindi tradotto nel nostro lavoro io direi che la cosa più forte che c'è, questo anche, come si può dire, sradicamento che abbiamo vissuto che abbiamo vissuto tutte e due, invece ricerchiamo tantissimo il legame con la storia e con il passato come se, diciamo, questo filo tra passato e presente deve condurci verso il futuro e noi siamo questo filtro. Sicuramente è importante capire come abbiamo iniziato, come si è sviluppato e come operiamo oggi quando abbiamo iniziato 12 anni fa non avevamo collaboratori e siamo partiti molto naif due artisti che avevano il background, l'Accademia di Belle Arti e abbiamo cominciato a creare con gli oggetti stessi, abbiamo fatto arrangiamenti, esperimenti proprio fisici dopo piano piano sono arrivati i nostri designer che hanno in molto meno tempo potuto realizzare un po' le nostre idee poi c'è stato un altro cambiamento che da quattro anni mi dedico praticamente solo all'arte e, diciamo, la nostra collaborazione è attraverso due mondi che sembrano diffondersi sempre di più. Sicuramente il materiale che è, come per dire, un po' che più tutti ricordano di Draga e Aurel è la resina con quale noi finiamo i tavoli, anche i mobili e la seconda cosa è comunque l'uso del pattern che viene proprio da questo background di tessile. Però resina non è l'unico materiale che noi usiamo, in realtà noi usiamo tantissimi materiali lavoriamo appunto con un'azienda che fa pelle, pregiata, per cui abbiamo imparato a stampare la pelle, a invecchiarla, abbiamo lavorato con i metalli, con il legno, per cui direi che non è tanto il materiale quanto il nostro approccio al materiale, che è molto simile, perché ricerchiamo un certo tipo di cifra o di matericità che rispecchia la nostra sensibilità. Come designer, ecco, direi che stare molto attenta al trend, perché per essere, diciamo, tra virgolette green bisogna studiare tanto, adesso i ragazzi studiano, perché uno dice no plastic, non è solo no plastic essere sostenibile. Nel nostro piccolo noi cerchiamo, per quanto riguarda la stampa, ad esempio abbiamo proprio un sistema di alimentazione dell'acqua, che è una cisterna che si ricicla da sola e dura un mese intero. Cerchiamo di smaltire in maniera, come puoi dire, attenta. Sono molto d'accordo che la grande domanda all'ecologia in generale parte sempre e deve partire da noi stessi. Se io non ho rispetto verso me stesso è molto difficile aprirlo anche al mondo intero e quindi quando si parlava di vernici assolvente io stesso non avrei voluto subirlo né avrei voluto obbligare i miei collaboratori a lavorare con questi materiali. Quindi noi abbiamo per esempio solo vernici all'acqua e come a casa si cerca moltissimo la differenziazione così ci tengo molto che sia anche in capanone. Noi praticamente nasciamo come, diciamo, Draga e Aurel quelli che hanno fatto esclusivamente all'inizio il riciclo, upcycling. Utilizzando la resina è un tessuto per recuperare degli aredi in questo momento che ovviamente, diciamo, anche produciamo ma noi continuiamo a portare avanti con grande affetto la nostra collezione che abbiamo chiamato Heritage. E anche questo cerchiamo di lavorare, ad esempio, con gomma lacca che non sono spruzzature, diciamo, sintetiche. E questo un po', come per dire, era sempre il nostro modo di aiutare. Il momento del salone è il momento, come per dire, più atteso sicuramente per le aziende con quale collaboriamo ma anche per noi designer che abbiamo, come si può dire, portato i nostri progetti. Grande fermento prima, grande aspettativa e poi un momento anche di grande festa. Secondo me proprio il salone del mobile è il momento per adesso a livello mondiale ancora non superato. cioè non esiste un altro momento per le aziende né come, come si può dire, espressione a livello come stand e cose così ma anche come afflusso di pubblico e risultati. Per cui è sicuramente il momento dove l'azienda raccoglie lavoro di un anno.